Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sì, buonasera. Egli è il nostro padre, il capo di Stato e di Governo. Eh, va bene. Vi volgo un cordiale saluto. Continuo a seguirci col suo amore. Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi. Ogni volta che l'ascoltiamo non smette mai di commuoverci. La ringrazio, ma il mio è un ritorno di protesta. Non è felice. Sto vedendo una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Sì, nomen domini benedictum. Non per favore. Adiutorium nostrum, nomen domini. Mi lascia continuare. Emetteva dei miasmi insopportabili. Le cose non sono più come prima. Per nostra fortuna, adesso lo conosciamo. Allora, complimenti per questi processi in diretta. E cade sempre più in basso. I soldati appassi sono fasulli. Si arrabbia, cari amici. Egli ha una relazione immatura. La signora Nicole Minetti. Infatti. Penso in modo speciale a quella. Che invece una splendida persona. È una santa. Intelligente, preparata, seria. La Vergine Maria. E svolge un importante e apprezzato lavoro con tutti gli ospiti internazionali della regione. Ella ha il potere di farci conoscere il suo volto, meglio ancora il suo c***o. Si contenga. Lei è un dipendente del servizio pubblico. E così paragona la chiesa alla radio e la televisione. Io so quello che sto dicendo. Lei no. Mi piace sottolineare questo aspetto. Lei la deve smettere di interrompere. Lei è patrono dei giornalisti. In dieci giorni risolverò questo problema. Ma anche della nostra giustizia. Rivenica la propria autonomia. In tre giorni risolverò quest'altro problema. Matta misericordie. Finisco. Invito cordialmente l'onorevole Iva Zanitti a venire via da questo incredibile postribolo televisivo. In grado di suggerirci sempre nuovi significati. Il Papa ha fatto bene a richiamarci tutti. Non Berlusconi. Tutti. Tuttavia, una sola cosa. Non rispondo alle sue domande. Le dico semplicemente. Siete... Giudei o greci. Schiavi o liberi. Dei poveri comunisti. Requiescant in pace. Amen. Schiavi o liberi. No. 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 Grazie a tutti